I membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni credono nel Paradiso e nell'Inferno? I mormoni, più correttamente chiamati Santi degli Ultimi Giorni, ossia i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, credono in effetti in un Paradiso e in un Inferno. La comprensione che i Santi degli Ultimi Giorni hanno del destino dell'anima umana dopo la morte si basa sugli insegnamenti della Bibbia e di altre scritture rivelate da Dio tramite i Suoi profeti antichi e moderni. Proviamo a spiegare. Parlando della vita dopo la morte, Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vò a prepararvi un luogo». I Santi degli Ultimi Giorni confermano questa verità nel loro credere che l'anima continua a vivere dopo questa vita terrena. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo insegna questo concetto ai Corinzi, quando spiega la risurrezione del corpo dopo la morte. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri. Altra è la gloria del sole, altra la gloria della luna e altra la gloria delle stelle. Così pure della risurrezione dei morti. I Santi degli Ultimi Giorni concordano con Paolo sul fatto che durante la risurrezione tutti i figli di Dio saranno risuscitati a uno dei tre livelli, o gradi di gloria, paragonabili a quelli del sole, della luna e delle stelle. I Santi degli Ultimi Giorni apprendono altre cose su questi gradi di gloria dalle rivelazioni date da Dio al profeta Joseph Smith, il primo profeta e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Credono che ognuno di questi regni sia un grado di gloria e possa essere considerato una specie di paradiso. Joseph Smith ha insegnato che il più alto grado di gloria o il più alto grado di paradiso è chiamato Regno Celeste ed è il luogo in cui dimorano Dio e il suo figlio Gesù Cristo. Ha spiegato anche il regno terrestre, quello teleste. Persino il regno più basso, il regno teleste, è in grado di gloria paragonabile alla gloria delle stelle lontane. Sebbene questo grado di gloria sia riservato a coloro che hanno vissuto con intenti malvagio e con odio verso le cose di Dio, essi tuttavia ricevono una certa misura di gloria da un Padre Celeste amorevole e giusto. Il regno terrestre, con la sua gloria più splendente e paragonabile a quella della luna, è la ricompensa per coloro che conducono una vita buona e onorevole, ma che non hanno mai abbracciato pienamente il Vangelo di Gesù Cristo. Il più alto grado di gloria è il regno celeste, paragonabile alla brillantezza del sole, offre la ricompensa di una vita perenne alla presenza di Dio e di suo figlio, Gesù Cristo. Lì possono ereditare tutto quello che ha il Padre. Siamo figliuoli di Dio, e se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Facciamo un piccolo passo indietro. Che cosa succede al corpo dopo la morte? I Santi degli Ultimi Giorni credono che dopo la morte tutti coloro che sono vissuti sulla Terra vivranno per sempre con un corpo fisico, perfetto e risorto. Questo è ciò che vogliono dire i Santi degli Ultimi Giorni quando usano il termine «immortalità». Questo è un dono del Salvatore Gesù Cristo. In virtù del suo sacrificio espiatorio, della sua morte sulla croce e della sua risurrezione, egli ha vinto la morte e ha aperto la via affinché tutti i figli di Dio risorgano. I membri della Chiesa credono inoltre che sebbene tutti i figli di Dio saranno benedetti con l'immortalità, non tutti riceveranno la vita eterna. Qual è la differenza, ti chiederai? Che cosa significa vita eterna? È un elemento importante della fede dei Santi degli Ultimi Giorni e significa semplicemente dimorare dove dimorano Dio e Gesù Cristo e vivere come loro nella gloria più alta del Regno Celeste. A volte tutto questo viene anche chiamato esaltazione. È un'opportunità per continuare a progredire, per diventare come Dio e Gesù ed è una ricompensa per il massimo livello di fedeltà ai comandamenti di Dio. È destinata a coloro che ricevono la misericordia di Dio mediante la fede sincera in Gesù Cristo e il pentimento tramite la sua espiazione. In parole poveri, il Paradiso è la ricompensa per le azioni compiute in questa vita ed è l'amore del Salvatore Gesù Cristo espresso tramite la sua espiazione misericordiosa. Il Paradiso è costituito da tre gradi di gloria preparati da un amorevole Padre Celeste e da suo Figlio, Gesù Cristo. E che dire dell'inferno? I Santi degli Ultimi Giorni credono nell'inferno? Sì, i Santi degli Ultimi Giorni credono che l'inferno possa essere visto in due modi. Primo è il luogo temporaneo nel mondo degli spiriti post-mortali in cui gli spiriti di coloro che durante la vita terrena sono stati disobbedienti attendono la risurrezione. Per costoro, quest'inferno è un tipo di prigioni di cui parla l'Apostolo Pietro nel Nuovo Testamento. Egli insegna che Dio ha fornito un modo tramite il quale il Vangelo di Gesù Cristo può essere predicato agli spiriti ritenuti in carcere. Da questo impariamo che per alcuni spiriti l'inferno ha una fine. I Santi degli Ultimi Giorni credono che tutti gli spiriti avranno la possibilità di accettare o rifiutare il Vangelo di Gesù Cristo che sarà loro insegnato. A seconda di ciò che scelgono, ricevono un livello o un grado corrispondente di gloria. Inoltre, i Santi degli Ultimi Giorni descrivono un inferno post-risurrezione come una dimensione di vuoto assoluto chiamato Tenebre di Fuori, un luogo privo di alcuna gloria dove risiede Satana. È destinato solo a quei pochi che una volta avevano una piena comprensione della verità e una testimonianza personale del Salvatore Gesù Cristo, ma che in seguito hanno rinnegato e abbandonato quella testimonianza personale. Solo le persone più malvagie sono assegnate all'inferno come destinazione finale. Il Padre Celeste ama i Suoi figli e una dimora di gloria è a disposizione di tutti. Il piano di felicità di Dio offre persino un modo in cui i Suoi figli possono ritornare a vivere con Lui. Il modo è il Vangelo di Gesù Cristo. È questa aspirazione eterna essere come il Padre Celeste e Suo Figlio Gesù Cristo e a stare con loro nella più alta dimora di cui ha parlato Gesù, che motiva i Santi degli ultimi giorni a vivere con intento e a progredire, ad amare le loro famiglie e a servire le loro comunità, a seguire il Salvatore in ogni modo. I Santi degli ultimi giorni nel paradiso, l'inferno e i gradi di gloria. Adesso lo sai.